Qualcuno di genere e via che giostra non mani neanche scopo qua lo messi in calciato bisogna trovare l'amalgama anche un buon anno è strano che tu questa sfilza di giovani no ma non ho giocatori va bene però non ho ancora trovato sono tutti nuovi anche per me devo conoscere continuo a tenermi stop work a Valori è buono Gustavo Scarpa mi sembra buono ma non è vero devo piano piano capire ma comunque sono contento lo stesso vabbè ti davo più eh lo so qui vabbè non ci sto tutto vabbè 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 la casa e vabbè, quello è il suo regno che io vedi oggi ho questa libertà perchè è andata a tagliarsi i capelli e siccome l'appuntamento ce l'aveva le 18 giù sulla costa si vuole poi mezza retta venire su, quindi so che arriverà adesso ah vedi Ziba però è un uomo assist Ziba eh si, un po' il volo passa è sempre lì col piedone mi sa l'androca è preoccupante, non si branda comunque il mio problema è mezzo perchè dietro sono lenti però poi il problema è mezzo l'altra oca è un si fa bene con lì ancora sta da pass adesso devo capire un po' la quattro e mezzo poi di uscire da questa un pass oh Europa League comunque sono passato eh eh buono è già qualcosa a parte che tipo mo si scontreremo con quelli pure della Champions perchè ci sarà lo scontro con quelli di Champions quelli che sono scesi dalla Champions si va bene e te buona serata buon appetito una buona serata a te ciao Danilo ciao 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 Poi prendere un domani, dai? E già si unisì